ciao e mandi a tutti ragazzi bentornati dal vostro ava come lava è uscita la 4.1 ragazzi e possiamo vedere insieme è arrivato un nuovo istituto di ricerca di fontaine le rovine del laboratorio centrale con tutti i teleport e mi raccomando sbloccateli iscrivetevi al canale lasciate un bel like e condividete ai vostri amici iniziamo la missione cronaca dell'istituto di ricerca di fontaine ok qua dice l'istituto di ricerca 585 metri cioè tecnicamente vi porta qui dove c'è la statua dei sete io l'avevo già attivata ma potete anche andare qui nella nella città e parlate con catherine qua c'era una spunta ragazzi non la vedo perché molto brevemente si è attivata prima no dove c'è la statua dei sette nuova potete scegliere o qui o in città ok allora appena arrivati scendiamo ecco vedete dove ci sono questi due robot perfetto dobbiamo farli fuori ok abbiamo iniziato la missione e ora dobbiamo trovare nacher che è di sopra e ora dobbiamo andare nell'istituto quindi molto più avanti vedete i teleport quanto sono utili dobbiamo usare la scaletta ed eccoci ah no c'era l'entrata ops allora ragazzi qua possiamo vedere un simbolo ecco è venuto fuori una lettera in codice ok bla 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 ok e dobbiamo attivare quella cosa però allora col mouse puntiamo schiacciamo invio e abbiamo preso l'energia ora guardiamo senza premere nulla siamo passate la telecamera abbiamo l'energia dentro la telecamera e la spariamo laggiù e la porta si apre e facciamo fuori i nemici e ora raggiungiamo il luogo prendiamo la cassa eccoci eccoci e adesso dobbiamo recuperare il materiale di ricerca di fontaine ce ne sono vedete quelle queste luci e bisogna fare soltanto recupera trappo lozzo no il trappo lozzo il baulozzo ed eccolo l'ultimo pezzettino qua bisogna distruggerlo letteralmente ora facciamo fuori ok ci dice vai all'istituto di ricerca di fontaine oh già sbloccato quindi andiamoci e oh quanta gente wow ci sono studiosi dappertutto eccoci raimondo che dai veramente raimondo giramondo guarda se si chiama giramondo l'altro ah no coiseul cioè raimondo nome italiano choiseul tipo nord coreano sud coreano ok e adesso bisogna andare ai dormitori quindi qua ora bisogna recuperare il rileveratore di dati bisogna andare in fondo vedete dove c'è il blocco di ausia prendiamolo torniamo indietro e attacchiamo il pilastro e facciamo avvia prendiamo il secondo blocco e lo mettiamo qui dove c'è la telecamera e andiamo qua facciamo attiva e spariamo no prendiamo l'energia scusate ok l'abbiamo presa e la trasferiamo qui perfetto prendiamo raccogli e la appoggiamo qui e facciamo avvia e prendiamo il la roba e cosa cosa oh un baule prezioso non l'avevo visto e adesso bisogna andare qua giù quindi qua oh ci sono nemici dai entriamo ok la porta viene aperta da lui facciamo fuori i cagnolini ok ok molto bene allora qua dobbiamo fare no allora prendiamo il blocco di osia che è qua sopra ok qui c'era tipo una roccia molto probabilmente l'avevo già distrutto ok l'abbiamo attivato e andiamo nel computer e spariamo no ah ok facciamo qui nel computer puntiamo al questo spariamo al pilastro prendiamo l'energia e ci spostiamo qui nell'altra telecamera e infine l'altra telecamera attivierà la cosa finale molto bene avvia altri mostriciattoli ah no stavo scherzando ah adesso si sono attivati ah maledetti si sono attivati adesso ah e vi sblocca il baule prezioso io lo prendo e ci dice uh quante anche questa dai ok e torniamo nell'istituto e dopo aver parlato andiamo alle rovine che sono qua e bisogna seguire questa strada e arrivare qui e io non ho sbloccato questo quindi seguiamo la strada saltiamo occhio a non cadere se no dovete fare di nuovo tutto da capo ed eccoci arrivati entriamo e no un attimo devo controllare una roba come facciamo a andare lassù boh intanto prendo le farfalle questo cos'è oh ecco cos'è fatto quindi ci sono le bolle bisogna distruggere le bolle no che muoio no che muoio ok ho avuto un mezzo di infarto tipo perché no occhio se cadete perché vi tocca rifare tutto da capo ah no questa ah si sposta la bolla ok qua c'è c'è il portale se non entra di nuovo che bello ragazzi non so voi ma questa parte della mappa è molto molto carina ok e adesso andiamo su no non c'è il portale quindi bisogna lanciarsi letteralmente e fare centro ok e allora ah no qua c'è un blocco di osia vedo due blocchi attiviamoli quindi uno e due non era questo ho preso il baule peccato ah ecco la bolla ops io ho fatto tutto quello per niente più o meno ho toccato la bolla siete trasportata quindi bisogna toccare la bolla facciamo entra eccoci qua il bellissimo cielo stellato mettiamo tuttiamo la bolla di nuovo e ora c'è il portale ok perfetto e siamo arrivati e siamo arrivati ottimo allora ora dobbiamo sconfiggere tutti in mecha però però io ce l'ha sbloccato in automatico il teleport molto bene abbiamo il portale e dobbiamo distruggere tutti i tipi qui e adesso dobbiamo tornare indietro dalla tipa che faceva la foto e ora torniamo all'istituto di ricerca da Raimondo e ora si fa la bella foto ricordo una foto esplosiva direi quella non era un'esplosione no era un unicorno volante cos'altro avrebbe potuto non credo che fosse un'esplosione ma come sembrava qualcosa di controllato ma era un'esplosione dai c'ho i seul ok ora bisogna andare alle rovine allora ragazzi come potete vedere no è un attimo che ingrandisco ci sono i cubi uno due tre quattro ok e utilizzate sempre il teleport centrale per fare uno due tre e quattro vi lanciate letteralmente dobbiamo recuperare i componenti no come vi avevo detto iniziamo da da questo qui questo qua quello in fondo quindi laggiù mettete il ventaglio così siete molto più veloci è comparsa una bolla quindi molto probabilmente bisogna no toccarla ok dobbiamo seguire un percorso qua altra corrente altra bolla occhio a non cadere perché se no non dovete rifare tutto da capo mi ero leggermente preoccupato corrente entriamo e adesso qua cosa ci dice ah e perdiamo vita molto semplicemente non bisogna oh eccolo è sotto proprio sotto nascosto e l'acqua no non ci uccide più e andiamo in quello da 2,55 quindi questo questo coso è ancora qua incredibile roccia quindi bolla ho visto qua oh mostri bolla oh oh dobbiamo dobbiamo entrare vedo che c'è no dobbiamo risalire ah dobbiamo toccare la bolla scusate tocchiamola ci lanciamo bolla nemici ottimo oh non me l'aspettavo bolla altri nemici bolla nemici no entra oh e entriamo ah e avete visto che c'è il pezzo in basso a sinistra quindi si vede subito è proprio davanti a noi sotto di noi ok e abbiamo il secondo torniamo indietro ah c'è la bolla proprio sopra no il sopra la colonna facciamo entra oh questo è molto semplice oh però è uscita una bolla ah non si può non si può ragazzi non si può quindi bisogna toccare la bolla seguiamo una strada è qui dobbiamo fare così che colpo di genio è la stessa identica cosa se no si può utilizzare venti tipo dove dobbiamo andare dove dobbiamo andare ah oh qui dentro no non possiamo la bolla la bolla seguiamo la bolla ok infatti perfetto adesso ci manda qui cioè ci sta dicendo dove che strada dobbiamo fare entriamo e davanti a noi ottimo e adesso abbiamo l'ultimo eccolo qua il cubo finale è un po' lunghetta questa missione no però vabbè dai ci sta ci sta oh oh dobbiamo fare esplodere no ah dobbiamo dobbiamo utilizzare un arco uno con l'arco o no sì poi abbiamo qui ho le scalinate facciamo entra è qui dentro no è impossibile oh sì sì ma dove stiamo andando ah siamo qui facciamo di nuovo entra ah scendiamo vabbè è vero che stupido che sono era lì ok e dobbiamo trovarlo eccolo molto semplice perfetto e ora andiamo subito da Raimondo wow dobbiamo sconfizerlo che bello ok ok abbiamo purificato l'ambiente e per finire torniamo all'istituto e finalmente abbiamo finito la missione finisce qui ci da l'obiettivo completato e per la missione in sé è finita però c'è un però ragazzi se volete avere un piccola no storiella in più ovviamente di questa missione cosa bisogna fare bisogna spostare l'ora di due giorni dentro il gioco ok e dopo tre giorni reali bisogna andare nella corte di Fontaine in città ok e qui da qualche parte no ci sarà la la ragazza quella del no la Chlorind quella lì e potete parlare con lei giusto per completare al 100% la missione e questo è un piccolo extra vi ringrazio veramente molto di vedere i miei video e spero che vi siano d'aiuto ragazzi ci vediamo col prossimo video ciao ciao